Previsioni meteo per venerdì 15 gennaio. Al nord, bella giornata su tutte le regioni, con cieli in prevalenza sereni, qualche nube in più sulle alpi di confine, ma senza particolari fenomeni. Al centro, nubi irregolari sulle adriatiche, con fenomeni sparsi su Abruzzo e Appennino, nevosi oltre 1100-1300 metri, variabilità tra Umbria e Lazio ma senza piogge, sole invece su Toscana e Sardegna. Al sud, tempo instabile con acquazioni sparsi sulle regioni peninsulari, in particolare sulla Campania. Venti tesi, mari molto mossi, temperature stabili in lieve calo al sud.